Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di No Limits Medi4Speed No Limits Allora andiamo un pochettino subito da fare Subito eccitatissimi nel momento di fare una gara Allora entriamo nel garage Vediamo cosa ci propone E cosa che potenzialmente fare Allora E' la Muskol Ford Mustang Boss 702 E' già molto più Costrutti Non so tempo neanche di averci avuto Siamo qua a auto Lo scoppiamo oggi E' la Mustang Ovviamente lo comparto da poco Ce l'ho in garage parcheggiata Magari Non sarebbe stata male Come prima Allora Continuiamo Spero di arrivare Un numero ben iscritti Così A quelli che vi ho chiesto Oggi La richiesta di amicizia Su Youtube Posso iscrivervi al loro canale Quindi cerchiamo Se volete Cerchiamo insieme Di Magari Di arrivare Di arrivarci Magari hanno facendo iscritti Non sarebbe Non sarebbe male Aspettiamo Con calma Cerchiamo di fare I video simpatici Cercando Anche di Sperando Che vi piaccia Che vi piacciono I miei video Di tutto quello che volete Dittimi nei commenti Cosa potrò portare O magari fare Fare altro Come so Questo è quello che volete Dittimelo nei commenti E io lo faccio Ok Mettiamo un po' di mitra Ok Installa Ok Vediamo Tutti Lo scattiamo Ok Missione A fare Ok Dopo ce le guardiamo Bene così Ok guarda qui guarda qui guarda qui ecco qua basta fare qui lo ritroviamo indietro vediamo un pochettino no allora vediamo un pochettino delle casse prima ci facciamo la premium vediamo cosa abbiamo ottenuto vediamo un po' la cassa d'oro ci è molto 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 possiamo potenziale vediamo a chi da strada ce ne sono qua la Ford la Subaru la Volkswagen la 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 Ok Ok Ok, cominciamo Perfetto Perfetto Allora Visto che cosa abbiamo fatto Non è che Ti sei sbarazzato di Ramirez Beh, man mano che avanzi In un ambiente competitivo Com'è questa è l'ormale fase dei nemici Diciamo che Appure non vanno proprio con più avere Allora già, comunque Vedremo di non disturbarti troppo Devi mantenere la concentrazione Questa è la nostra propria Tu pensi sulla vici, vedrete il mio cupo lì Bene Nitro Rush Benissimo Cerchiamo di portarla Vedremo anche la forza Qua inizia ad essere un po' più difficile Ma cerchiamo di portarci avanti Con il nostro livello Al capuccio Via Oh Cari Ah Cari Oh Ah Ah No Ah Ah non mi ricordavo che era ancora un mouse ma che è stato messerato in applicazione non mi ricordavo che era anche un mouse ho ritardato e non ce l'ho fatta la grande ragazzi cacchio ogni bomba ok abbiamo fatto un bel disco rizzione ok perfetto allora ci facciamo un'altra partita ok ok non mi ricordavo che era un mouse ma che mi ricordavo con la frecetta ma come ampera non è ancora un pio ok Ah, c'è me sento malo. Ciao, bello! Ah, no! Era un po' più contento di me, ma un po' con poco. Vai, incontriamo! Dani, un po' più fina, ma ce la proteggiamo. Yeah, la grande è portata alla seconda vittoria. Grandi, ragazzi. Eh, certo, tutta roba scadente. Tu sei scadente. Bella, fratello! Ok. Anche questa vinta. Ce la portiamo a casa. Releve! Releve ci si arriva. Vediamo un pochettino se infatti si arriva. Allora, vediamo un pochettino. Ce la mettiamo la Ford. La Ford. La Ford. La Ford Master. Quella appena uscita. Accelerazione alla velocità massima. Velocità massima. Velocità massima. Ok, adesso ci facciamo, invece della campagna, ci spostiamo. Ci facciamo una grande. Andiamo. Allora, adesso, adesso è la venta. Ok. Allora, vediamo un pochettino. Ci dovrebbe essere quella nuova. Allora, il vento. Sembrerebbe. Facile. C'è blu. C'è n'acqua piena. Cavolo loco. Del cavolo. Locco. Del passione. Trotto. developing a電ria come dispositivo. Il vento cinta, groanibili. C'è kilpito. Eeeh, è addosso, non è vero. Perfetto. Sto macchiamo adesso. Non posso superare. Tutto all'ultimo, no? Però l'accelerazione è stupenda. Perché sennò me l'avrebbe superato. Però vedo, grazie al nostro, l'ho schiantato troppo. Ok. Bene, 2015. Ci riportiamo a casa. Capitolo completato. Ok. Per me va bene così, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi che ancora non l'avete fatto. Se lo vedete via il mio canale, attivate la campanella delle notifiche. E bella a tutti. E al prossimo video. Ciao belli. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.